Del leggere e del possedere libri, 1908 Che ogni pezzo di carta stampata rappresenta un valore, che qualsiasi stampato nasca dal lavoro intellettuale e meriti rispetto, viene considerata fra noi un'opinione passata di moda. Solo raramente, in riva al mare o in alta montagna, si trovano ancora essere isolati, la cui vita non sia stata finora raggiunta dalla marea cartacea e per i quali un almanacco, un manualetto, un giornale perfino, costituiscono un possesso prezioso e degno ad essere conservato. Siamo abituati a ricevere gratuitamente a casa una quantità di materiale stampato e sorridiamo del cinese, per il quale ogni carta scritta o stampata è sacra. E tuttavia il rispetto per il libro non è scomparso. Soltanto in questi ultimi tempi si è cominciato a distribuire libri gratis e qua e là il libro sta diventando una merce vile. Proprio in Germania, d'altronde, si direbbe che la gioia di possedere libri sia in aumento. Siamo ancora lontani, ben inteso, da una retta comprensione del valore di tale possesso. Quelli che hanno riluttanza a spendere per i libri, anche solo la decima parte di quanto riservano alla birra o al caffè concerto, sono falange innumerevole. Mentre per altri, dalla mentalità più antiquata, il libro è una specie di reliquia da tenere nel salotto buono a impolverarsi sul tappettino di felpa. In fondo, ogni vero lettore è anche un amico del libro. Infatti, chi è capace di accogliere di tutto cuore un libro e di amarlo, vuole, se appena può, che sia anche suo. Vuole leggerlo, possederlo, avere la certezza che il vicino è disponibile. Farsi prestare un libro e leggerlo in fretta, per poi restituirlo, è una cosa che non presenta difficoltà. Ma, per lo più, ciò che si è letto va perduto con la stessa rapidità o quasi con cui il libro è sparito dalla casa. Ci sono anzi dei lettori, particolarmente fra le donne prive di occupazione, in grado di divorare un libro al giorno. Per costoro, la fonte più appropriata, rimane in definitiva la biblioteca circolante. Essi infatti non raccolgono tesori, non acquistano amicizie né arricchiscono la loro vita, ma aspirano semplicemente a soddisfare una voglia momentanea. Questa specie di lettori, della quale Gottfried Keller ci ha dato un'efficace descrizione, va lasciata al suo vizio. Per il buon lettore, leggere un buon libro vuol dire fare la conoscenza dell'indole e del modo di pensare di un essere che gli è estraneo, cercare di capirlo e, se possibile, farselo amico. Specialmente nella lettura dei poeti, non è certo soltanto un piccolo ambito di persone e di fatti, quello che veniamo a conoscere, ma in primo luogo il poeta stesso, il suo modo di vivere e di vedere, il suo temperamento, la sua fisionomia interiore, ed infine anche la sua scrittura e i suoi mezzi artistici, il ritmo dei suoi pensieri e della sua lingua. Chi, in un modo o nell'altro, è stato avvinto da un libro, chi comincia a conoscere e a capire il suo autore, chi ha stretto un rapporto con lui, solo da questo momento il libro comincia a dispiegare su costui il suo vero effetto. Egli, perciò, non lo cederà, né lo dimenticherà, ma, al contrario, lo conserverà, ossia lo acquisterà, così da poterlo rileggere, da poter rivivere in esso quando ne senta il bisogno. Chi acquista in base a questi criteri, chi volta a volta si procura solo quei libri il cui tono e la cui anima siano riusciti a toccare il suo cuore, ben presto smetterà di divorare libri indiscriminatamente e senza scopo, e piuttosto con l'andare del tempo radunerà intorno a sé una cerchia di libri cari e preziosi, da cui saprà attrarre gioia e conoscenza e che in ogni circostanza gli saranno più fruttuosi che non l'abbandonarsi disordinatamente alla lettura casuale e inconsulta di tutto ciò che gli capiti fra le mani. Non ci sono mille e cento più bei libri, c'è per ogni singolo individuo una scelta particolare, basata su ciò che gli è affine e comprensibile, caro e prezioso. Perciò è impossibile costruire una buona biblioteca dietro ordinazione, ciascuno deve seguire le proprie esigenze e preferenze e crearsi a poco a poco una collezione di libri allo stesso modo come si crea degli amici. Allora una piccola raccolta potrà significare per lui il mondo intero. I lettori veramente buoni sono sempre stati quelli le cui esigenze si sono ristrette a pochissimi libri e più di una contadina che non possiede e conosce altro che la Bibbia l'ha letta più a fondo e ne ha tratto una maggior somma di sapere, di conforto e di gioia di quanto un qualsiasi riccone viziato possa ricavare dalla sua lussuosa biblioteca. L'effetto che producono i libri ha del misterioso. Ogni padre o educatore ha fatto la seguente esperienza. Ha creduto di dare al momento giusto un ottimo e bellissimo libro in mano a un ragazzo o a un adolescente che si è poi accorto di essersi sbagliato. Il fatto è che ciascuno, vecchio o giovane, deve trovare la sua propria strada nel mondo dei libri, anche se il consiglio e l'amichevole vigilanza possono avere qualche utilità. C'è chi riesce presto a entrare in confidenza con i poeti, mentre ad altri occorrono lunghi anni prima di constatare quanto dolci e singolari siano tali letture. Si può cominciare da Omero e finire con Dostoieschi o viceversa. Si può crescere in compagnia dei poeti e alla fine passare ai filosofi o viceversa. Le strade sono cento e cento. C'è però un solo criterio o un'unica strada per formare e sviluppare il proprio spirito attraverso i libri. Ed è l'attenzione a ciò che si legge, la paziente volontà di capire, l'atteggiamento umile di chi non rifiuta e rimane in ascolto. C'è chi legge soltanto per passatempo, per numerose e belle che siano le sue letture, le dimenticherà ben presto e si ritroverà povero come prima. Chi invece legge i libri come si stanno ad ascoltare gli amici vedrà come essi gli sveleranno i loro tesori e diventeranno per lui un intimo possesso. Quello che egli legge, quello che egli legge non scivolerà via ne andrà perduto, ma al contrario gli rimarrà e gli apparterrà, lo allieterà e lo consolerà come soltanto gli amici sanno fare.